Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questi sono nuovi colori che stavo testando e che ho provato e li ho voluti mettere sulla zentorno perché mi sembravano carini sulla zentorno allora i primi due colori ragazzi sono due colori che potete mettere normalmente nel social club senza bisogno di stare ad aggiungere lettere o fare ispezione elemento poi comunque chi conosce il metodo sa di che cosa sto parlando quindi i primi due colori sono due colori regolari con aggiunta di qualche perlescente strano diciamo che gli danno questo tocco particolare come vedete questo primo colore diciamo è un colore non presente allo santo scarso ma che però con un perlescente un po' strano diciamo questo è un perlescente rosa ha questa particolarità questo effetto molto molto bello e anche il secondo colore diciamo un colore che potete fare normalmente senza bisogno di ispezione elemento mentre il terzo colore è un colore particolare che dovrete andare ad intervenire nel social club come ho mostrato nelle guide precedenti questo è il secondo colore ragazzi è un colore corallo diciamo anche questo come ho già detto non dovrete fare nulla lo potete mettere nel social e qui c'è un perlescente bianco ghiaccio ragazzi è molto particolare li ho voluti mettere sulla zentorno perché li avevo provati sulla zentorno e mi piacevano come stavano sulla zentorno però se voi avete qualche richiesta per qualche veicolo che magari vi piacerebbe una verniciatura particolare per qualche veicolo fatemi una richiesta e nel video di prima ragazzi c'era un sondaggio che dovevate rispondere sì o no ma lo metterò anche in questo lo stesso sondaggio in cui vi chiedo se volete altre vernici o meno così magari ci risparmiamo se non vi interessano io non le metto se vi interessano io le metto e magari mi fate richiesta di qualche vernice particolare e io cercherò di accontentarvi magari non so qualche vernice che vedete su internet qualcosa di strano che non riuscite a fare e non sapete come farla provate a dirmelo e io cercherò di accontentarvi ragazzi cercherò di fare magari al migliore dei modi questo tipo di vernice insomma no come avete visto ho tirato fuori il viola Lamborghini o anche altri colori in testa da poter vedere tutto sta a cercarli in internet e farli uguale quindi qui possiamo passare anche al terzo colore ragazzi che è il il finale penso e il terzo colore ragazzi è un viola molto molto particolare che questo qui lo potete mettere nella crew ovviamente ma non normalmente ma facendo ispezione elemento e aggiungendo delle lettere finale vi lascerò tutti quanti i codici esadecimali sia del primo del secondo che del terzo colore e come dicevo questo è un viola particolare ragazzi con l'aggiunta di un perlescente azzurro vi lascerò tutto scritto in descrizione come diciamo i perlescenti e quello che dovete mettere detto questo ragazzi spero che il video vi piaccia spero che vogliate vedere ancora video di questo genere un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti